Ciao studenti, facciamo un rapido ripasso su Italo Calvino, uno dei maggiori scrittori del secondo novecento, che incarna sia la tendenza realistica che quella postmoderna. Andiamo a vedere le opere più importanti. Nè Il sentiero dei nidi di ragno affronta il tema della lotta partigiana, dal punto di vista di un bambino, Pin, che guarda la storia con grande ingenuità. Poi abbiamo la raccolta di tre brevi romanzi, che sono Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente. Le storie presentano elementi fiabbeschi e sono collocate in un passato più o meno vago, proponendo situazioni inverosimili. Poi abbiamo una fase più sperimentale con le città invisibili, descrizione di città ipotetiche presentate da Marco Polo. Nel castello dei destini incrociati, gli ospiti raccontano le storie servendosi dei tarocchi e in sé una notte d'inverno un viaggiatore, abbiamo la ricerca da parte di un lettore e una lettrice di un misterioso romanzo.